Cristiano Dorigo, curatore con Elisabetta Tiveron di Frattempi Moderni, non è la prima esperienza da curatore, in questo caso avete già in qualche modo provato in passato questo tipo particolare di raccolta. Sì, questo è il quarto volume che io e Elisabetta Tiveron curiamo insieme, abbiamo fatto una trilogia riguardante più l'aspetto territoriale e politico, iniziando nel 2017 dai cento anni di Porto Marghera, Porto Marghera cento anni di storia, poi abbiamo allargato il focus su Venezia, la Venezia che vorrei e poi abbiamo ulteriormente allargato il territorio, abbiamo fatto una raccolta sul nord-est. Questi tre libri li abbiamo fatti con il Vezzi Editrice, quest'ultimo, il quarto che curiamo insieme invece, è con il Margine, questo nuovo marchio editoriale che Ericsson ha fortemente voluto, praticamente ha preso e fatto rinascere un editore che c'era un tempo, che aveva la caratteristica di avere le idee al centro, questo è lo slogan diciamo, e che è partito in grande stile, è iniziato con uno slot di nove titoli, di cui Frattempi Moderni fa parte, ha intenzione di pubblicare 25 titoli all'anno e di lanciarsi nel mondo editoriale questa nuova sfida. Noi avevamo questa idea che abbiamo proposto ed è stata accettata, insomma abbiamo lavorato molto bene a lungo ma con molto interesse e molta passione. Come è venuta la selezione dei 13 autori per i temi trattati? Allora, noi scegliamo gli autori innanzitutto tenendo conto di diversi elementi, l'elemento che c'è sempre stato è quello di scegliere autori che ci piacciono, autori che crediamo che abbiano qualcosa da dire, nello specifico sull'argomento. Altra caratteristica è la trasversalità di genere, sia quindi scrittori che scrittrici, possibilmente qualche poeta e possibilmente qualche illustratore. Abbiamo fatto questa, noi compiliamo sempre una lista ideale, facciamo la cornice tematica e poi chiediamo, iniziamo a chiedere agli autori di aderire al nostro progetto. C'è molto nord-est in questa selezione di autori, ma non solo? Questa selezione, questa volta trattandosi di un progetto che aveva ambizioni nazionali, ci sono diversi autori locali a nord-est, ma anche da altre parti d'Italia, c'è Milano, c'è Roma, c'è Napoli, c'è la Florida, commista a mestre, e per cui davvero trasversale. Qualche nome lo facciamo? Li farei tutti, per non far torto a nessuno. Allora, beh, Elisabetta Tiverone, Cristiana Dorigo, curatori, e poi ci sono Antonella Cilento, Massimo Cirri, Michela Fregona, Sandro Frizziero, Lalla Hu, Ginevra Lamberti, Fabio Magnasciutti, Francesco Maino, Eleonora Molisani, Giovanni Montanaro, Emanuele Petener, Federica Sgaggio e Adezeno. Mi ero dimenticato Torino, Adezeno è di Torino. Ecco, 15, compreso appunto di voi due curatori, 15 modi diversi di trattare questi frattempi. Proviamo a dare un concetto di frattempi. Il concetto da cui siamo partiti è l'idea che c'è stata un'epoca e poi ce n'è stata un'altra. Noi, che sono le epoche pre e post internet, diciamo, pensavamo che noi, generazione, quindi autori che vanno dagli anni 60 agli anni 80, che abbiamo vissuto a questo periodo, questo frattempo, cioè in mezzo a due tempi, avessimo quasi un dovere di raccontare questo, quello che c'è stato prima e quindi con caratteristiche, come si viveva un tempo, un tempo che non c'è più. Il rischio, ritenevamo, era quello di non trovarne traccia, abbiamo pensato appunto di raccontarlo e abbiamo scelto questa volta appunto autori che sono stati testimoni del passaggio epocale, dal digitale, diciamo, adesso digitale e prima pre-digitale. Ecco, visioni quindi che partono spesso dall'analogico, ecco, da questo momento pre-digitale e che in qualche modo non ci si riesce a togliere di dosso, oppure sì? Ma alcuni ne hanno parlato e hanno offerto visioni nostalgiche del tempo che fu, secondo me anche legato al fatto che il tempo che fu ci vedeva giovani e protagonisti. Ci si può scollare, alcuni hanno invece parlato del presente con grande entusiasmo. Riteniamo che comunque sia, che sia un tono nostalgico o un tono di grande slancio in avanti, vale sia la pena comunque di differenziare queste epoche, diciamo, queste aeree. Spunto per prossimi lavori da questo punto di vista, c'è da lavorare ancora su questo confronto tra mondo analogico e digitale e soprattutto nuove generazioni digitali. Vanno interessate a quello che è stato un passato che non hanno conosciuto? Beh, vanno interessate nei termini che ci sono concetti che paiono cancellati dalla nostra vita di adesso, che sono la lentezza, che sono la possibilità di ritagliarsi in uno spazio in cui possiamo sparire dal momento e ritirarci, come dire, in meditazione. Credo che questo sia il concetto assolutamente necessario da riportare, cioè questa possibilità di non essere sempre protagonisti e sempre in mostra. Questo è il focus che riteniamo, insomma, di avere anche ben approfondito. Grazie a tutti.